Vuoi sapere cosa ho scoperto? Ho scoperto che tutti amano Sirmione. Inizia con questa esclamazione il video che Vincenzo Regis, attore comico, ha dedicato a Sirmione. L'intero video è visibile da qualche ora sulle pagine Facebook e Instagram del Comune. Un racconto per immagini che si rincorrono velocemente, catturando in tre minuti gli scorci più belli dei luoghi da visitare a Sirmione. L'azzurro del cielo, il blu del lago fanno da cornice al castello e alle grotte di Catullo, il nostro centro storico con le sue tipiche viuzze strette già percorse dagli ospiti. I nostri albergatori, ristoratori e commercianti pronti ad accoglierli, ma anche i vigneti del Lugana e la tradizionale gita in motoscafo, proprio guardando la penisola dal lago, Vincenzo allarga le braccia e grida, Sirmione è un paradiso. Questo è il messaggio che vogliamo far giungere a tutti coloro che stanno progettando le loro vacanze. Sirmione e il lago di Garda sono ricchi di storia e di bellezze artistiche e naturali. Basti pensare ad esempio al vittoriale o alla strada della forra che sale dal lago fino agli 800 metri di Tremosine, con una vista mozzafiato. Chi alloggia Sirmione può raggiungere in meno di un'ora Brescia, Mantova e Verona, città bellissime e ricche di storia. Sirmione risveglia tutti i sensi, conclude Vincenzo Regis, invitandoci a diffondere tra gli amici il racconto della sua vacanza a Sirmione.